Nessuno qui sa cosa devo fare o che farò e non si può sapere ancora se la busta che mi spetta arriverà soltanto quando l'ora della notte si confronterà col sapore del buon pane del mattino. Chi sa la busta che mi spetta quanto è giusta? Chi conosce il prezzo? Chi l'odore? Nessuno sa l'odore. L'ora è tarda e fa lo stesso se l'odore che si sente della notte, del denaro, dell'amore oppur del ferro, della faccia che mi segue ogni giorno, se tutte queste cose hanno un tempo diverso e un senso che non capisco. Sto dicendo che ho dieci anni di più di quando questa storia è cominciata. Dal momento in cui il primo meccanismo ha girato si è cambiato tutto. che muole di fatica e mi passi da dimenticare. Sì, con grazie. E se nessuno qui mi cambia il cuore. Gentilezza e grazie. Sarebbe l'ora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.